E' terribile pensare a un dolore forte, insopportabile, come un'operazione chirurgica pericolosa, un disonore pubblico, un addio straziante. Che dire di una morte certa e vicina, di una morte violenta nei fiori degli anni? Di Santo Maso Moro si racconta che la sera del patibolo, in attesa della sua esecuzione di morte, i suoi capelli diventarono tutti bianchi. Ora pensiamo a quanto doveva passare nell'anima di Gesù in quelle ore che precedetero la sua cattura. Sulle sue labbra bruciava il bacio di Giuda. La cattura, le calugne, i maltrattamenti urdiva già l'orribile crocifigie, crocifigie. Vedeva la pesante croce e dopo la salita straziante con l'incontro della madre, il calvario, tutto è compiuto. Gesù ha accettato questo calice amaro perché si trattava della nostra salvezza e perché ci amava. E noi? Come tergiveschiamo quanto la nostra vocazione e il servizio di Dio ci richiedono qualche sacrificio? Quanto un lavoro in postaci non ci va a genio, quanto la povertà comincia ad essere pesante e incomoda. Per amore di Gesù, che per noi ha sudato sangue, impariamo a mortificare la nostra superbia e dire un sì generoso ai sacrifici che incontriamo nella nostra vita. Non ci costerà certo sudore di sangue. I peccati del mondo Davanti agli occhi del Signore nell'orto degli ulivi stava la croce e dietro la croce possiamo immaginare il cumulo dei peccati del mondo. Come Agnello di Dio doveva prenderli su di sé, portarli ed espiarli come fossero suoi. Signore Dio Padre, questi peccati sono i miei peccati. Il santo Corata d'Ars più volte fu estratto da confessionale svenuto. La nausa, il fetore di tanti peccati gravi, lo stordivano e sveniva. I peccati dell'umanità di tutti i tempi. Che valore ha per noi il peccato? E' facile che specialmente noi sacerdoti prendiamo un po' alla leggera la stima del peccato e facilmente per agevolare il penitente non facciamo notare la gravezza dello sbaglio compiuto. E invece è il peccato grave, cioè di un uomo amato da Dio che si ribella a Dio Padre buono e misericordioso. Per amore, per non infierire infatti col pensiero di Gesù che scende sangue nell'orto, ci prepareremo bene a fare la nostra confessione. L'ingratitudine degli uomini. Gesù nell'orto, accettando la passione e la morte in espiazione dei peccati dell'umanità, accetta un sacrificio che soltanto l'immensità del suo amore può fargli accettare. E quanti uomini gli saranno riconoscenti? Quale frutto ne ha ritrovato? Oggi osanna, domani crucifigie. Aveva qualche conforto nel futuro? Vede la lunga via crucis che dovrà percorrere la persona della Chiesa. E qui una lunga via crucis di sofferenza, scismi, eresia, peccati, scandali, perfino tra i suoi sacerdoti e tra coloro che sono consagrati a Dio. E inoltre chiese profanate, altari sconsagrati, delitti e sacrilici contro persone sagre, messe e comunione sacriliche, mancanza di rispetto. Vede i suoi amici di tutti i tempi, o meglio, vede più nemici che amici. E quindi ogni nostra invedetà, ogni nostra mancanza nel lavoro, nella preghiera, nel sacrificio per la salvezza delle anime era una gruccia amara nel calice del Signore. D'altra parte, tutto ciò che noi facciamo per la salvezza delle anime, ora presente nella sua anima e lo consolava. Quale incitamento allo zero per le anime a sacrificarci per esse genosamente fino all'ultimo istante della nostra vita. Grazie a tutti.